ciao a tutti benvenuti sul mio canale feri a s m r io sono federica e quello che state per guardare è un nuovo video pensato appositamente per il vostro rilassamento in particolare questa sarà la risposta ad un video tag ideato da ASMR darling se non sbaglio e riproposto in italia da chiara ASMR questo video sarà un viaggio nel mondo dell'ASMR vi presenterò infatti 21 più 5 trigger ognuno corrispondente ad una lettera dell'alfabeto il tag era appunto per 21 lettere però ho deciso di includere anche le 5 lettere dell'alfabeto inglese perché ho altri 5 suoni che ho pensato per voi mi raccomando prima di iniziare se questa idea vi piace fatemelo sapere lasciando un like e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti se siete già iscritti e avete già cliccato la campanella ricliccatela e scegliete l'opzione ricevi tutte le notifiche perché youtube ha portato qualche cambiamento quindi è molto importante che selezionate quell'opzione per non perdervi i nuovi caricamenti e detto questo mettetevi comodi indossate il cuffio e iniziamo eccomi innanzitutto io sono stata attaccata da black moon ASMR che saluto io taggo a mia volta 3 canali che spero rispondano e che quindi realizzino un video con lo stesso mood ma con altri suoni il primo canale che taggo è quello di L ASMR il secondo canale è quello di DITO ASMR e il terzo è quello di NINFEA ASMR e partiamo con la lettera A per la lettera A ho scelto il trigger dell'arcobaleno voi direte che cos'è il trigger dell'arcobaleno? lo avete visto nel video che vi lascio qui tra le schede dedicato alla giornata del gay pride ed è questo questo è un gioco che adoravo quando ero piccolina l'ho sempre trovato molto molto soddisfacente sia visivamente sia per il suono sia proprio a livello tattile e come vedete presenta i colori dell'arcobaleno vi lascio il trigger vi lascio il trigger e vedete i vedete Grazie a tutti. Grazie a tutti. E come potrete vedere è un po' spilank. La adoro. La pozione contiene siren tears, cioè lacrime di sirena. Eccolo. Adoro, adoro fullamente. Il tapping sul vetro. Eccolo. 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 Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con la lettera C ho scelto il trigger delle carenze e ho scelto di farlo con questa piuma. Lasciati aggrezzare. Senti come si sfiora. Disolletica il viso e aggrezza la tua pelle. Con la lettera D ho scelto un trigger che ultimamente sto adorando. Il trigger in questione è il dot-tot e andrebbe realizzato con un dotter, ma non avendo un dotter. Ho scelto questa penna che tra l'altro si illumina. E attraverso questa penna ho realizzato molte volte il trigger del follow of the light. Ma sto atto. È il momento del dot-tot-tot-tot-tot-tot-tot. Tut-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot-tot tu 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 con la E non potevo non scegliere degli eating sounds perché li adoro ma ho scelto degli eating sounds particolari e cioè quelli con le pop rocks per chi non lo sapesse le pop rocks sono delle caramelle frizzanti e sono contenute all'interno di questo bustino adesso andrò ad assaggiarle per farvi ascoltare il suono che producono all'interno della mia bocca eccole sono dello stesso coloro delle mie cuffie è un vero di acqua assaggio questo gusto al mirtillo tra l'altro lo trovo delizioso con la lettera F ho scelto un trigger che mi fa addormentare ed è quello delle fusa vi lascio per già tra poco a un'inquadratura di Jesse che dorme con il sottofondo delle fusa se vi piace questa tipologia potrete trovare un altro mio video abbastanza vecchio in cui parlo di Jesse, ve lo lascio qui e mentre lo descrivo e lo coccolo c'è il sottofondo delle fusa grazie 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 quindi glitter, ho questo astuccio e credo che lo abbiate visto la primissima volta nel video che vi lascio qui, nelle schede, un bel po' di tempo fa quindi, sono super super affezionata a questo astuccio e mi piace tantissimo toccarlo, anche qui provo una soddisfazione sia dal punto di vista visivo, sia dal punto di vista tattile, sia dal punto di vista sonoro Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Con la lettera H ho scelto airbrush, cioè la spazzola Possiedo diverse spazzole, una in legno, un'altra in plastica e devo dire che questa è la mia preferita Soprattutto per il suono che produce Vi lascio quindi all'airbrushing Grazie a tutti 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 questo vi piacerà con la lettera F vi presento un trigger che non credo di avervi mai portato prima d'ora ed è il metro non credo di avervi mai portato non credo di avervi mai portato siamo alla N vi siete mai chiesti che suono produca un narvalo? adesso avrete la risposta utilizzeremo il mio squishy a forma di narvalo non so quale sia la pronuncia corretta guardate che bello che è è uno squishy di creamy candy ed è profumatissimo l'ho utilizzato nel video roleplay che ho realizzato con Kiki quello del negozio di squishy vediamo un po' vediamo 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 con la O voglio ripresentarvi i miei orecchini quelli che ho acquistato quest'estate semplicemente per il suono meraviglioso che producevano un suono d'intinnante gli orecchini in questione sono questi e adesso per il mostro il mostro Siamo quindi alla lettera B e con la lettera B ho scelto di mostrarvi un altro trigger che avete molto apprezzato rimanendo in tema di sirene sapete? qui in questo canale c'è sempre sotto sotto un'atmosfera un po' fantasy vi mostro la pelle di sirena adoro, adoro di sirena che produrgo di sirena Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E spostiamoci su qualcosa di un po' più tradizionale, ma che personalmente adoro, adoro, adoro. Si tratta della tastiera QRT, quindi la Q sta per QWRTY, che sono appunto le prime lettere della tastiera. Grazie a tutti. 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 e credo che il vostro stato di rilassamento ormai sia molto, molto, molto profondo comunque con la R voglio proporvi un oggetto che ho utilizzato recentemente in un video dedicato al petto school, ritorno a scuola e l'oggetto in questione è questo righello e lecno la S è la lettera dell'alfabeto con più trigger in assoluto allora ho scelto questa spugna in silicone è una spugna per i piatti o comunque una spugna che si può utilizzare in cucina l'ero mostrata già molto, molto tempo fa poi altre persone ho visto che l'hanno presa perché il suono è veramente spettacolare io ho proprio appello è un problema ok 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 Grazie a tutti. 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 Aspettatevi presto un altro roleplay per l'unghiera dedicato a questo trigger. Per il trigger con la U parliamo di unghie, non vi dico altro, vi lascio il trigger. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per la lettera V voglio riproporvi il vasetto. Di Govaset contenente la panna montata, spero che vi piaccia, questo è sicuramente uno dei miei preferiti. Grazie a tutti. Ed eccoci alla lettera Z, l'ultima dell'alfabeto italiano. E' anche l'ultima prima dei 5 bonus che ho deciso di portarvi in questo video. Con la lettera Z, con la lettera Z, con la lettera Z, voglio mostrarvi nuovamente lo Zen Garden e il giardinetto Zen. Grazie a tutti. 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 Eccoci dunque ai 5 trigger bonus corrispondenti alle lettere J, K, W, X e Y. La lettera X la daremo per ultimo perché ci sarà una sorpresa. Con la J voglio mostrarvi un Jelly Slime. Spero che vi piaccia. Grazie a tutti. 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 Prepariamoci. La Sabbia Genetica. cioè la sabbia genetica ho realizzato un video un bel po' di tempo fa dedicato proprio alla sabbia genetica io ho questa la classica perché la preferisco a quella colorata è contenuta all'interno di questa confezione e non vedo l'ora di mostrarvela occhio perché questo è un visual trigger potentissimo quindi la scuola Grazie. Grazie a tutti. Con la W vi presento degli water sounds ma un po' particolari, infatti per realizzarli ho deciso di prendere in prestito una ciotola con dell'acqua e la mia adorata spugna albaca. Grazie. 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 di meno, non dimenticate di lasciare un segno del vostro passaggio qui e di leggere la descrizione ah e se vi siete domandati durante il video qualcosa in merito alla mia maglietta, è sempre una maglietta di pampling e con il codice affiliato ELVETTI potete ottenerla con il 20% di sconto nel caso vi piaccia, io adesso vi saluto, vi lascio un bacino fatoso e tanti pensieri felici e vi do appuntamento, se vi va, al prossimo video, ciao! Adesso tocca a te, hai già lasciato il mi piace? Iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew Ah e se vuoi continuare a rilassarti, clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti, buonanotte!